Strade Colabro del quartiere Saccara, questa la segnalazione giunta alla nostra redazione. Il manto stradale delle principali vie del quartiere presenta infatti delle enormi buche, come potete vedere, dalle immagini, che rendono difficoltoso l'attraversamento non solo ai pedoni ma anche ai mezzi, come la fossa che si trova all'angolo tra via San Calogero e via Mussomeli. Un disservizio che i residenti della zona hanno più volte segnalato all'amministrazione comunale senza nessun risultato. Intanto nella via San Calogero continua a persistere il problema dei rifiuti, tra cui sfabricidi e materiale speciale abbandonati in quello che è stato definito l'angolo della vergogna. Nonostante un cartello indichi la presenza di telecamere. Chiediamo che il più urgente possibile vengano a sistemare questa situazione perché qui non è un campo da golf, ma è una strada. Non solo, ci troviamo in un centro storico di cui dovrebbe essere molto più curato da parte delle istituzioni. E non ne fregassero assolutamente come stanno facendo fino a oggi. Perché non è giusto che noi ci puliamo questo, puliamo quell'altro. Non è giusto neanche che ancora oggi, anche in questa zona, vedo che c'è Cacestruzzo, che c'è Catrame, che ci sono Mattonelle. Di cui io personalmente posso dire che, avendo parlato una volta con l'ingegnere Capo, mi ha detto che in questo centro storico non deve esistere né Catrame e né Cemento, deve esistere per quello che è, cioè Mattonelle. Perciò come mai ultimamente sono venuti a buttare di nuovo dal Catrame? Questo è un punto interrogativo. Cioè o è una presa in giro, automaticamente, che fanno l'istituzione a noi, o ci vogliono tappare con queste dicerie che dicono, non lo so, perché è inutile fare più istanze, perché le istanze che facciamo noi sono inutili. Oramai sono ridotte inutilmente, perché abbiamo istanze che abbiamo fatto anche due anni fa e ancora non abbiamo ricevuto nessun tipo di risposta. Poi d'altro canto abbiamo una situazione qua per l'immondizia pure. Una cosa che è inutile, che mettono una telecamera, che poi d'altro canto non è anche funzione, e continuano sempre a buttare materiale, buttare materiale. Cioè dico, c'è un qualche sistema, un qualcosa per poter evitare che si butti pure questa immondizia in questa zona? Che qua, come dicendo, non solo che ci sono le case che sono chiuse, e aperte magari con qualche fessura, ed è piena di topi. Ultimamente abbiamo avuto un'impostazione proprio di topi, cioè pazzesca, ma topi grossi, parliamo di topi che sono come conigli. Non mi sembra giusto che noi dobbiamo stare in questo ceto di vita. Allora chiedo gentilmente, io come il Comitato Santa Croce, chiediamo gentilmente che qualcuno delle istituzioni, faccia immediatamente, dico immediatamente, un ripristano per queste strade perché è una vergogna. È una vergogna.